Musica You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my will, but what a thrill And the Niskay Rekis is quitting balls of fire I let me love how I thought it was funny Musica Io credo che sempre ci debba essere un certo distacco Tra l'attore e il personaggio che interpreta Anzi, in genere io dico Bisogna che un occhio sia sempre qui E a micchi, ironico E dica, oh, oh, non laminare tanto, eh Musica Ma ricorda che stai facendo una resita Non è che stai vivendo questo personaggio Anche se alle volte accade Per esempio, anche di commuoversi Cosa che all'attore non dovrebbe mai accadere L'attore deve far piangere il pubblico Ma lui non dovrebbe mai Eppure può accadere perché forse in quella commedia C'è qualcosa che ti tocca Proprio più da vicino, più personalmente Musica Ho qualche momento in cui gli occhi diventano lucidi E questo mi imbarazza molto Perché vuol dire che io non ho il distacco Che sempre uno deve mantenere Rispetto al personaggio che sta interpretando Cari amici del web, ben trovati sul canale di Raico Libri Come si può ben immaginare oggi parleremo di teatro E lo facciamo dal piccolo teatro al bordo Grazie a tutti Mi chiamo Luigi Sinacori Sono il presidente e il direttore artistico della nostra associazione Che si chiama Arcoscenico Arcoscenico è un contenitore culturale Che nasce nel 2015 Quindi già dal nostro statuto Abbiamo dovuto un pochino anche evidenziare Quali sono i nostri intenti Cioè quello di raccogliere tutti i tipi di arti Però principalmente Insomma la nostra attitudine principale E quella del teatro Arcoscenico è solo contenitore Poi abbiamo la compagnia teatrala appunto Che prende il nome di La bottega della ribalta Che è il gruppo di teatro Che si occupa di portaniscena e di spettacoli Come ho detto prima Io mi occupo anche della regia E quando occorre sono anche lo scrittore della compagnia Insieme al mio amico Leonardo Mastoccino Che spesso ci alterniamo sia un po' nella direzione artistica Ma soprattutto anche nella scrittura di testi inediti Una delle nostre caratteristiche È quello di portaniscere gli spettacoli sempre nuovi Spesso ci rifacciamo sia al mondo classico Anche al contemporaneo Da due anni a questa parte collaboriamo in maniera solida Con un'altra associazione Che si chiama Piccolo Teatro Alborgo Con l'occasione per salutare insomma Il maestro Mimmo Venditti Che è il direttore artistico di questa realtà Storico Mimmo Venditti Sono 45 anni Che esiste questa associazione E come ho detto prima Sono due anni Che cerchiamo questa sinergia insieme Ci siamo anche iscritti da un anno a questa parte Anche a una federazione nazionale Abbiamo scelto la WIRT In quanto ci sembrava più adeguata I nostri obiettivi Recentemente avete fatto una conferenza stampa Sì, mercoledì Mercoledì scorso Avete presentato appunto il vostro cartellone Quindi la vostra attività Diciamo continua e costante Sì, prima di tutto Io sono Mariano Mastuccino E come hai già detto Sono il segretario Cioè quello che si occupa delle scartoffe E abbiamo organizzato questa conferenza stampa Per il secondo anno consecutivo Proprio per presentare alla città E ai giornalisti E ai blogger come te Questa iniziativa La seconda stagione teatrale Delle associazioni riunite Arcoscenico e Piccolo Teatro Alburgo E l'abbiamo fatto anche quest'anno qui Nella sede del Piccolo Proprio perché ci teniamo ad invitare Poi almeno in queste occasioni Le persone a conoscere il nostro spazio Quello che noi viviamo praticamente tutti i giorni Con le prove Anche con la vita associativa E abbiamo presentato questa stagione Che come diceva prima Luigi Riesce a mescolare In modo molto armonico Sia il teatro classico Che il teatro contemporaneo Chiaramente l'associazione del Maestro Venditti Il Piccolo Teatro Alburgo E' specializzata nel teatro classico Soprattutto quello eduardiano Quindi all'interno del cartellone Che abbiamo qui Ci sono molti spettacoli del Maestro Edoardo De Filippo Giusto per citarne alcuni Che sono quelli anche Che rappresentano la più grande novità Di quest'anno Sia due spettacoli Che le due associazioni Non solo hanno organizzato Da un punto di vista amministrativo assieme Ma che vivranno E proveranno sul palcoscenico Contemporaneamente Quindi abbiamo mescolato In maniera opportuna Organica Le due compagnie Per come a creare Un prodotto assolutamente nuovo E questi due testi Edoardo Sono due capolavori assoluti Le voci di dentro E il sindaco del rione Sanità Soprattutto il sindaco Del rione Sanità In questi tempi E' risalito alle cronache Perché è stato oggetto Di riduzione cinematografica Da parte di Martone Anche ben accettato Dalla critica In diversi festival Italiani E internazionali E quindi noi Facciamo questa sfida Diciamo a noi stessi In primis Perché mescoliamo le compagnie Che è una cosa molto difficile Crediamo che a causa di Tireni Non sia mai accaduto Probabilmente Ma soprattutto Agiamo su un testo Veramente Che è una pietra Miliare Dei testi eduardiani E poi le voci di dentro Oltre a questi testi Ci sono Soprattutto E' una cosa che a noi Fa molto piacere Testi che sono scritti Da autori Delle due compagnie Che sono scritti Da autori Cavesi Anche per questo Crediamo di fare Un servizio Anche alla città Di Cava Per conoscere questi autori Perché in cartellone Oltre ad esserci un mio testo Il giorno 25-26 gennaio Del 2020 Che aiude Una storia Diciamo Di fascismo E di intolleranza Ci sono ben tre testi Ben tre commedie Di Luigi Sinacori Che sono Un'eredità poco mancina Il matrimonio in bianco Che addirittura È una commedia in musica Quindi anche lì Un po' un rischio per noi Una cosa molto Difficile Da portare Su un palcoscenico E poi ci sarà Agenzia Speranza Che è un assoluto inedito Che quindi verrà presentato In anteprima Per la stagione teatrale E poi c'è anche un testo Del maestro Venditti Che invece è un classico Mio marito aspetta un figlio Deve aver fatto Credo un centinaio di repliche In tutta Italia 161 Ecco Tantissime E attualmente È riprodotto Da diverse compagnie In tutta Italia Da 6-7 compagnie Perché è un testo Che ha avuto Tantissima fortuna Quindi cerchiamo di mescolare Sia il classico Edoardo Poi c'è anche un pirandello Noi di arcoscenico Faremo un lavoro E soprattutto Luigi Sta curando una regia Un adattamento Molto sostanziale Sul testo Il berretto a sonagli Di pirandello E poi anche Un altro grande testo Di un autore Molto importante Cardo dei Benedetti E non ti conosco più Sempre per il piccolo teatro Al borgo E quindi questo cartellone Partirà L'inizio novembre La fine settimana Del 9 e 10 novembre E saremo noi di arcoscenico Ad aprirlo Proprio con un'eredità Poco mancina Che è un testo scritto Diretto da Luigi E verrà chiuso Il 9 e il 10 maggio Del 2020 Con appunto Il sindaco Del rione sanità E le due compagnie Assieme Vuole può seguirci Soprattutto sui canali social Arcoscenico Sia su Facebook Che su Instagram Anche il piccolo teatro Al borgo Chiaramente Fa la propria promozione Anche su Facebook Però poi Anche privatamente Noi facciamo Il botteghino Per ogni spettacolo Con biglietti D'ingresso Ad un prezzo Ci teniamo a dire Anche molto popolare Perché il prezzo D'ingresso Per il biglietto intero È di 6 euro Quindi una spesa Assolutamente fattibile Soprattutto C'è anche una riduzione Per i ragazzi Più giovani E anche per gli allievi Dell'accademia In modo che anche Che i giovani Che studiano Si avvicinano Siano facilitati Ad avvicinarsi Agli spettacoli dal vivo Con un ridotto Di 4 euro Anche per aiutare le famiglie E poi chiaramente Che è quello Che spesso consigliamo Perché chi vuole Seguire tutta la stagione Può avere Sia un posto Assolutamente riservato Con l'abbonamento Ma anche un prezzo Privilegiato Perché Avrà un risparmio totale E sarà sicuro Di avere il proprio posto Riservato Con un abbonamento Appunto annuale Anche io recito Sono Gianluca Pisabia Sono appunto Il tesoriere Anche io mi occupo Di scartoffe Scartoffe con i numeri Ma pur sempre Scartoffe E diciamo che Come piccolo ruolo Vogliamo dire La tutta Mi occupo anche Un pochino Della parte tecnica Un poco Anche insieme Appunto All'altra associazione Se la parte Il comparto Sia luci Che audio Quando è necessario Soprattutto quando Andiamo ad esibirci Una location Che permette Soprattutto L'utilizzo Di un comparto audio Perché noi solitamente Quando ci esibiamo Noi piccolo Tendiamo anche A non utilizzare Una strumentazione audio Ma per il semplice motivo Che facciamo leva Sulla nostra vocalità Soprattutto per far arrivare Anche nel modo più naturale possibile Al pubblico Le espressioni Senza artificiale Ci interessa In tornare invece All'aspetto Che più mi interessa Ovvero I soldi Ma in realtà Non è così Però Sì Sostanzialmente Noi è chiaro Che come abbiamo detto Prima Siamo una realtà Che ci autofinanziamo Per cui Gli spettacoli Qualunque cosa Che noi facciamo È puntata Al nostro sostentamento E anche Al potenziarci Stesso Nel tempo Ovvero Anche Come dire Provvederci Di una strumentazione Migliore Per qualche effetto Quando possiamo Che vogliamo Metterci qualche effetto Speciale Maggiore Per esempio L'anno scorso Abbiamo Fatto Due spettacoli Anzi Due anni fa E anche l'anno scorso Ripetuti Collaborando Sia con Un musicista Lorenzo Camarano Possiamo salutare Anche io Un nostro caro amico E anche con delle ballerine Laura Camarota Infinis E Miriam Camaracciolo Ed è chiaro Che il lavoro Di un professionista Va sempre rispettato L'arbreo Música Grazie a tutti.